Buongiorno, mi chiamo Tasso Salvatore, sono un socio dell'azienda Iba Strutture, operiamo il campo dell'edilizia, realizziamo strutture in polistriere di PS, completamente premiabili di cui realizziamo bagni turchi, cantiloccia, vasche in muratura, un po' di tutto per quanto riguarda l'edilizia, realizziamo prodotti su misura per clienti molto esigenti, ci occupiamo anche per la rifinitura che può essere applicata sopra il nostro prodotto, per ogni tipo di rifinitura, nostra azienda è a Milano in Sesto San Giovanni, decisione, viale di membranze al 93 e prossimamente apriremo un negozio a Milano via Lavagno 4, di cui sarete tutti invitati per qualsiasi informazione potete contattarci tramite il sito web www.ibastrutture.it Grazie, buona giornata